Ribalta Lombardo Veneta, molto molto bella, un'eleganza molto ricercata, in cosa? Nella selezione dei materiali, nella raffinatezza della linea, una linea leggermente mossa, una profondità squisita che va a invogliare questa mossa leggermente sul fronte, proprio per dare questa continuità. Questo mobile, probabilmente di aria mantovana, ma evidentemente mobile che risente sia dell'eleganza lombarda che di quella veneta, è totalmente rivestito di radica di noce, della radica più preziosa. Radica di noce, l'astronatura di noce e dei piccoli inserti in frutto che vanno a chiamare quello che è il motivo del decoro del cassetto e del piano. Mobile molto molto interessante, proporzione veramente accattivante, proprio perché pur avendo una bella importanza, non è un mobile che viene a ingombrare quello che è lo spazio vostro esistenziale, molto bello, calibrato sui fianchi, mosso sul fronte. Se vogliamo vedere appunto un dettaglio di quello che è il cassetto, tutto gioco in radica di noce e l'astronatura di noce, filetto in frutto come dicevamo, noce di testa, proprio per chiamare quelle che sono le catene che dividono i cassetti. Mobile intatto, proprio perché realizzato con dei medi di pregio, molto belli gli spessori delle radiche, quindi radiche che variano dai 3 ai 7 mm, tipiche proprio di questo primissimo 700 signori. Qui è un primissimo 700, di fatto è un mobile ancora in gran parte 600esco che prelude già a quella che è l'eleganza 700esca. E perché non darvi il piacere di svelare quello che è il gioco interno dello scarabattolo? Guardate la bellezza, guardate la proporzione di questo scarabattolo con piccolo castelletto interno, arredo rivestito in toto utilizzando quella che è la venatura del noce, della radica e dell'astronatura. Guardate la bellezza del cassetto. Radica a biglia aperta, specchiata sui quattro latri, quadri partita nel prospetto, molto interessante anche il gioco del vano interno, vano a castelletto proprio per celare quelli che potevano essere degli oggetti preziosi. È un arredo che misura 110 cm x 129 x 55 cm. Grazie a tutti. Grazie a tutti.